ecco siamo nel parco del ticino devo fare così e condividerlo dopo perché finalmente abbiamo trovato aperto regole per il rispetto della natura fondamentali il fatto che io sia contro le regole di questo decreto criminale non vuol dire che non bisogna seguire le regole del rispetto alla natura quelle sono fondamentali ragazzi le regole sono vita senza regole non c'è vita ma le regole devono essere per la vita non contro la vita so here we are finally into the park of tessin locality la fagiana between the departments municipalities of magenta and buffalora ticino siamo tra i comuni di magenta e buffalora ticino quindi siamo in un posto bellissimo finalmente aperto finalmente anche qui un po di vita dopo la chiusura si torna in mezzo alla natura finalmente guardate non sapete la grande gioia che si impossessa di me sapendo che finalmente si torna a vivere finalmente si torna a vivere allora dicevo le regole sono fondamentali la vita stessa è regola la musica è regola il problema è che devono essere regole giuste regole per l'armonia non regole che distruggono la vita come quelle del decreto le vere regole sono quelle che danno vita senza regole non ci sarebbe niente di quello che vediamo questo è tutto regole io sono poi uno di quelli che le rispetta di più guai se uno non rispetta le regole quando si va in macchina quando si fanno altre cose non mi troverete mai parcheggiare la macchina in sosta vietata una volta perché perché io amo le regole ma devono essere regole giuste l'importanza delle regole è fondamentale senza regole non c'è vita il nostro corpo va avanti perché ci sono delle regole altrimenti saremmo già morti meno male che ci sono ma devono essere regole giuste le regole sono fondamentali ma finalmente in mezzo alla natura ma che bello siamo su sentieri della lipu poi ve lo condividerò questo video è veramente bello essere qua finalmente la pace della natura un po più di calma anche grazie alla melatonina però mi sta facendo venire un gran sonno parco del ticino una meraviglia ed è a quattro chilometri da casa mia io ho anche poco bisogno di spostarmi a differenza di altri proprio perché vivo già in un posto bellissimo come potete vedere guardate che bello e sono a praticamente a casa quelli che vivono a milano ci credo che debbano spostarsi ma io questi posti ce li ho di fronte a casa quasi mi sono spostato di quattro chilometri siamo tra i comuni di magenta e boffalora come vi ho detto tutto a casa ma finalmente che bello ragazzi torna alla vita le regole sono vita ricordate e nelle nazioni dove ci sono più regole c'è più vita ricordate mio amico amico io ho sbagliato contro le regole ma le regole sono vita senza regole nessuna vita è possibile il più evoluto il paese all'interno del mondo è pieno di regole perché senza regole nessuna vita è possibile e è possibile ma è bellissimo finalmente ritrovare la natura dopo un po però ci sono ancora le zone chiuse beh ma questo è chiuso perché questo ponte è pericoloso infatti si passa di qua a chi mando un saluto il saluto più speciale alla mia cuginetta vilma ovviamente che qui a magenta mi ha aiutato tantissimo però alla fine in questo posto nuovo dove vivo sto veramente bene quindi basta non essere costretto a fuggire in un altro stato cosa che effettivamente si farà molto presto se continua così ma almeno adesso si vive ok sembra che il ponte funzioni qua buona giornata ovviamente la mascherina la lasciamo in macchina perché qui mi metto a ridere a usare le mascherine nel parco del ticino mi metto a ridere buona giornata bene qui stiamo ancora attraversando un ponte ma che bello sto posto ragazzi ragazzi siete tutti invitati quando lo vorrete questo posto è bellissimo veniteci e sarà un piacere essere in vostra compagnia non vedo l'ora venite quando volete anche domani giustamente le regole sono sono importanti ricordate le regole sono importanti senza regole non c'è vita la vita è regola il grande anello non lo so domani magari ce lo facciamo e pensate che hanno chiuso questo posto incredibile non ci credo hanno chiuso questo posto uno dei posti più belli naturalistici e l'hanno chiuso io uno dei prossimi giorni vengo con la colazione al sacco qua ci passo la giornata finalmente si torna a vivere ok adesso io ho deciso il video non lo faccio oltre dieci minuti sennò non lo guardate ho deciso di non escedere dieci minuti altrimenti è impossibile per voi si trattate in contatto ma le regole sono importanti ricordate senza regole non c'è vita bene sent of nature around me silenzio della natura stillness of nature around me and that's wonderful bene ragazzi vi mando un caro saluto sempre dal parco del ticino a presto see you soon and thanks for being here grazie a tutti per essere qua